Ciao tesori, eccoci finalmente ritornati con un nuovo video, sono bellissima di registrare per voi anche perché oggi veramente ho una marea di novità da farvi vedere quindi, quindi, novità che mi hanno inviato, mi hanno inviato delle aziende c'è anche un paio di scarpe, stivali, stivali quindi, 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 state lì, anzi, anzi ma prima di partire con il video, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale per me è davvero importantissimo per la riuscita di questo canale e soprattutto, ecco, per continuare a filmare nuovi contenuti per voi ecco, per me è davvero importantissimo quindi, sostenetemi, attivate la campanella così vi arrivano tutti, tutti, tutti i nuovi video vi arrivano le notifiche di quando esce un video e anche vi invito a lasciarmi un bel like se vi è piaciuto questo video e, e nulla, quindi direi adesso di iniziare con il video haul veramente ho tantissime, tantissime novità da farvi vedere quindi non so più nella pelle e direi di partire, anzi partiamo subito allora, 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 sono stata contadatta da uno shop online che si chiama Vovigor Official sotto vi lascio il link, nel caso vi interessi e ho iniziato anche a postare su Instagram quindi ecco, vi invito a seguirmi anche lì e mi trovate come Diana, trattino basso, style o più professional Diana, underscore, style e lì ecco, insomma, siano più immediati contenuti, le stories, ci teniamo compagnia un po' tutti i giorni e anche lì siamo diventando davvero una bellissima community sto conoscendo tantissime persone fantastiche e, so, ci scambiamo opinioni tutti i giorni quindi, ah, che bello quindi, ok allora, il primo completino vabbè, questo è sicuramente il mio preferitissimo è questa gondellina un po' stile, no? un po' boho un po', sì, insomma, quello stile da spiaggia, no? un po' stile spiaggia boho, boho chic ecco, questa gondellina verdina con tutti i fiorellini e ha due balze quindi questa proprio me la immagino sulla spiaggia ecco, magari a fare una gita, no? al mare, in un bel posto e è anche da utilizzare come set, copri costume perché questo è proprio un set c'è anche il toppino di quelli elasticizzati sono comodissimi questa c'è anche la manichina corta ed è davvero stupendo veste benissimo questa è una S ed è la vestibilità top quindi, ecco, fino a una 40 secondo me è top non è, appunto, eccessivamente stretta un'altra cosa, secondo me super positiva di questo set è che la gonna non è super corta anzi, è anche una lunghezza insomma, sopra il ginocchio però non 10, non so 20 centimetri, ecco sopra il ginocchio quindi rimane discreta e quindi, ecco sicuramente è un plus è cosa vogliamo indossare insomma, senza avere troppi occhi indiscreti quindi, ok mi stavo dimenticando ma per voi attivo anche uno sconto del 20% sul sito Vovigore Official quindi, ecco potete decidere se acquistare il mio set il set che ho scelto io o anche ovviamente è valido per tutto 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 lo shop con il codice DIANA42 ecco, basta digitare il codice DIANA42 al momento del check out e, ecco vi verrà appunto applicato uno sconto del 20% quindi questa cosa mi fa molto 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 felice appunto perché vi posso, ecco aiutare ecco nel vostro shopping se appunto ecco, vi fa piacere mentre per quanto riguarda il secondo capo ahimè allora, questo è sempre di ve lo faccio vedere qua la scritta Vovigore sempre una S e, eccolo qua il cartellino questo l'ho tenuto il cartellino ancora allora purtroppo questo è corto cioè è perfetto la versibilità è top mi piace tantissimo anche il dettaglio delle spalline però è davvero corto cioè io non sono altissima ecco sono 1,67 calcolate però mi arriva a cioè quasi rasente al sedere quindi non lo potrò indossare come vestito lo indosserò come canotta ho già pensato quindi niente lo lo farò scendere poi ci metterò sopra una gonnellina una pantaloncina un jeans insomma quello che è particolare è ecco la tasca ci sono le tasche qua proprio un vestito è un tubino però un po' sport un po' lo stile casual sport mi sistemo il top non so come l'ho messa comunque dicevamo quindi ecco vi consiglio che se appunto lo ordinate ordinate una taglia in più perché comunque ecco dall'altezza come la mia è veramente troppo corto quindi nel caso ci vorrebbe una M ecco poi poi proseguendo con sempre Bobigore l'ultimo capo questo molto carino nel senso che è anche elegante questo è un abitino grigio perla e i colori di quest'anno 2021 sono il grigio perla e il giallo quindi quindi top allora questo questo ci stia bene anche il giallo assieme non ve l'ho sistemato bene perfetto adesso ve lo chiudo così lo vedete bene ma comunque di tutti i capi come sempre scorreranno le immagini o i video eccolo qua questo è il vestitino c'è un'apertura qua sulla vita e poi ci sono delle frappettine questo è tipo saten insomma molto carino sicuramente ha una bionda secondo me questo colore grigio perla sta meglio rispetto a me rispetto a me appunto col mio capello insomma insomma però però insomma ho voluto provare mi piaceva ecco che fosse appunto elegantino fatemi sapere cosa ne pensate ecco se secondo voi mi sta bene o non mi sta bene questo colore scrivetelo già nei commenti passiamo invece adesso a Femme Lux se capi che mi sono stati inviati veramente ce ne sono di stupendi anche questa volta tanto sono innamorata di questo top con le maniche così baluni bianco anche questo mi sa di estate mi sa di vacanza su uno yacht no è bellissimo cioè questa è la scolatura la cerniera questo ho preso un XS perché avevo paura che fosse un po' lento nella parte appunto di sopra e quindi vabbè insomma questo è il caso se invece ecco dipende ovviamente dalla vostra dalla vostra fisicità ecco la taglia poi ho preso questa tuta qua a parte che mi piace troppo l'accostamento di colori poi mi piace adoro che la felpa abbia il cappuccio e poi ha anche la culisse che la possiamo anche inserire sotto al reggiseno la il top culisse il top culisse sì la felpa insomma la possiamo inserire sotto al reggiseno ecco in modo tale che diventi una felpa crop e ve le faccio vedere nelle foto poi poi la cosa veramente top che mi sono rimasta veramente a bocca aperta è la vestibilità di questi pantaloni jogger sono stupendi allora intanto secondo me il fatto che siano neri perdonate se sentite i rumori ho la finestra chiusa però insomma stanno ristrutturando e insomma spero che non diano troppo fastidio apro e chiuso parentesi ok allora il pantalone fatto così ne lisce tantissimo quindi ve lo consiglio allora nero con le bande laterali le fischette appunto rosa e bianche c'è anche nella versione cacchi e bianco è sempre nero quindi ecco insomma si piaccia più di più quella versione pantalone è sempre a vita alta sta appunto Femme Luxe la taglia che ho scelto è la 8 che corrisponde a una S ecco quindi è perfetto poi è stupendo ecco qua il come scende la caviglia con le righe che è la stessa appunto lo stesso motivo che ha nei colsini quindi davvero stupendo poi allora sempre su Femme Luxe allora sicuramente Femme Luxe appunto come vi ho sempre detto allora è leader nei capi femminili un po' sex come piacciono a me un po' lo stile Kylie Jenner ma anche per i capi lingerie quindi felponi tutone insomma track suit come quello che vi ho fatto vedere prima e questa è un'altra meraviglia che mi è arrivata questa sicuramente è comfy proprio da stare in casa mentre stiamo sul divano stiamo leggendo un libro guardando la serie tv insomma facendo i cavoli nostri l'altra è perfetta anche per uscire la track suit ecco questa invece secondo me è proprio da casa allora bellissima è la maglia over allora tutto bianco la taglia sempre a 8 ed è oversize bella morbidosa poi pantalone uno spettacolo cioè aspetti in casa quando avete quel pantalone scomodo che vi dà fastidio la cintura l'elastico che tira insomma vogliamo stare comodi in casa no? ecco ecco questo è proprio l'apoteosi della comodità cioè veramente allora il pantalone con quiz sempre bianco cioè vi potrei far capire la morbidezza di questo pantalone poi scende giù così proprio a gamba larghissima palazzo è uno spettacolo in quanto a morbidezza comfort e tutto e poi tiene anche caldo quindi ok adesso stiamo andando incontro no? siamo già in primavera e sicuramente però ancora ci sono quelle mattine quando si alza che è freddo ecco o la sera io in particolare la fredda la mattina quando mi alzo la sera ho sempre freddo quindi cioè una tuta del genere secondo me si sfrutta sfrutta bellissima poi in questo bellissimo colore bianco cioè wow top poi un'altra chicchina da Femme Lux Femme Lux è questa blusa qui che vi ho fatto vedere anche questa su Instagram allora amo appunto che sia in organza bellissimi poi i bottoncini adesso è aperta dietro però ecco si chiude con i bottoncini di perle che ci sono anche sui polsini e poi è tutta floreale così rosa è trasparente infatti mi dicevo che una ragazza appunto è trasparente però ecco secondo me è una trasparenza che si riesce appunto a indossare sotto una bralette io l'ho indossata con una bralette pizzo bianco se l'avete anche rosa nude insomma secondo me si può spaziare di questa ho scelto la 8 e corrisponde ad una S sono stata anche contattata da un altro sito Easy Toys e è un sexy shop non sapevo se accettare all'inizio pensavo di non accettare questa collaborazione insomma si trattava appunto di inviarmi degli articoli e basta ecco non 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 venivo pagata ecco non sono pagata però ecco il direttore marketing è stato gentilissimo perché appunto mi ha detto che avevano articoli appunto anche normali no? quindi ecco ho pensato appunto a questo punto di accettare e vi faccio vedere alcune cosine che vi avevo già fatto vedere alcune su Instagram altre ve le faccio vedere adesso ve le spacchetto adesso allora abbiamo questo allora intanto intanto ci tenevo a farvi vedere le confezioni che veramente vi arrivano in queste mega scatole giganti che è davvero adesso qua c'è un po' di polvere che davvero sono curate ecco proprio sembra proprio qualcosa di di laxari no? ecco quindi questo ho scelto questo vestitino ve lo faccio vedere bene lo spacchettiamo insieme ecco qua vedete bene questo è proprio cioè è un vestitino sicuramente un po' audace però insomma portabile nel senso quando si usciva in discoteca si poteva indossare eccolo qua questo è un vestitino vinilico con la cerniera davvero bello per me è davvero molto 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 bello a collo alto ovviamente si può scegliere la scollatura ho scelto un S ed ecco qua bellissimo bellissimo poi 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 ho scelto anche ecco per mostrarvi appunto che ci sono sì qua dietro e mai c'è il casino come al solito ok ci sono tanti 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 articoli anche appunto normali vi faccio vedere anche queste maschere veneziane che ho scelto che ho avuto possibilità di scegliere sono stupende allora questa è veramente uno spettacolo dorata stupenda cioè è veramente stupenda cioè ditemi quanto è bella veramente pazzesca mi ricorda molto no le 50 sfumature di grigio quando partecipano al ballo ecco secondo me queste maschere sono perfette quelle situazioni no dei film o telefilm americani partecipano al ballo e hanno appunto queste aiuto queste meravigliose maschere c'è anche nera lo scelto anche nera questa ha tutti i brillantini sembra un po' la maschera gatto guardate che spettacolo stupenda favolosa bellissima cioè veramente poi ho scelto allora qua ho scelto un completino da scolaretta e mi piaceva ecco l'idea ricorda molto Bridget no Bridget Britney Spears perché sto dicendo Bridget Jones forse perché mi sento io Bridget Jones vabbè comunque Britney Spears me l'avete detto in tante appunto che sembrava Britney Spears anche la bonus di Bonolis uso spesso questi gonnellini sì ok sono un po' particolari però a me piacciono se volete giocare un po' con queste queste cosine ecco a me piace allora la gonnellina è scozzese l'unica cosa avrei dovuto magari scegliere un taglio in meno forse non forse c'è solo S credo perché è molto 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 a vita bassa altrimenti cioè se la volete un po' più su sennò vi scende proprio bassissima però ecco è carina molto carino il suo toppino che trovo che appunto si possa indossare tranquillamente proprio tranquillamente come crop top per uscire adesso vi compariranno delle foto così capirete meglio comunque è fatto così a camicina poi abbiamo anche il cravattino eccolo qua e comunque anche su Easy Toys avete la possibilità ecco di acquistare con un 20% di sconto quindi anche qua sono felicissima con il codice Diana20 ecco in questo caso Diana20 comunque vi scriverò tutto sotto nell'info box così ecco se vi può interessare ecco adoro no vabbè queste cose qua le adoro comunque poi vi faccio vedere anche un capo di lingerie che ho preso sempre su Easy Toys allora questo è una sorta di bolti vestaglietta allora è molto carino il particolare del particolare gioiello che c'è appunto sulla scollatura mi piace che sia appunto scollo così vedete bene all'indietro si dice no scollo questo perché non so parlare faccio video e non so più parlare chiaramente comunque aiuto in pizzo aiuto qua ok tutto in pizzo trasparente e c'è anche la gonnellina con la frappena è davvero molto 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 bello molto chic appunto questo completo di lingerie quindi ecco vi consiglio se vi va appunto di approfittare dello sconto del 20% per accapararvelo poi poi questa chicca direte ma che ci fai con questo sì lo so però a me piacciono no come mi piace il set così da scolare un po' per giocare così mi piacciono queste cose ok quindi questo è il completino da coniglietta e qua e qua mi ricordo appunto di Bridget Jones quando partecipa a quella festa no dove è vestito da coniglietta era preti e lucciole no la festa oh well questa memoria Bridget Jones comunque e quindi niente mi sono faccio lo spacchettamento insieme a voi allora e vi arrivano queste scatole meravigliose così bellissimo allora c'è il cerchiettino qua aspetta che aspettate ok il cerchiettino sono un po' troppo mici nelle orecchie pensavo fossero avesse forse non lo so vabbè ok ok bene poi abbiamo il toppettino ho scelto sempre un S allora abbiamo il toppettino così con i fiocchetti dietro è semplice con la schiena che nuda ecco con l'incrocio c'è anche la GPR con i fiocchettini cioè non è delizioso veramente delizioso ma la chicca la chicca è questa molto andino con pompon bellissimo troppo carino poi tutto l'odio così ci sono anche le le calze le autoreggenti queste sono a rete anche questo avete visto su instagram quindi tutte queste cose le trovate sempre su instagram quindi vi invito ecco vi rinnovo l'invito a seguirmi lì per essere sempre più aggiornati appunto diana underscore style bene direi che ho detto tutto no mi stavo dimenticando le scarpe state lì che arrivo su tutto con le scarpe eccoci allora siete pronti siete pronti allora questa è la scatola il brand è up 2 step io l'ho letta all'italiana ok comunque è bellissima cioè arancione arancione così no bellissima mi piace e vi faccio vedere ecco è tutta una cosa le scarpe sono già spacchettate però ecco ci stiamo a fare vedere appunto la cura con cui me l'hanno appunto come me l'hanno inviate erano appunto con questo fiocco cioè sono state veramente carinissime un'azienda cioè è bellissima no quando invia quando inviano i prodotti da far appunto da provare così no con questa cura nei dettagli e veramente sono rimasta davvero molto 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 colpita con questo fiocco e non ho mai ricevuto appunto delle scarpe con il fiocco e vedere appunto no che un'azienda appunto mi invia prodotto da provare e così è è stato veramente una gioia sarà che non lo so mi ha fatto davvero molto 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 piacere perché appunto fa capire appunto quanto ci tiene no ecco sono jessie secondo me davvero molto 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 carini che non so che scaldano i cuori c'è col fiocco è carinissimo ok detto questo vi faccio vedere le scarpe allora siete pronti siete pronti ahhh questi questi qui sono degli stivali ma stivali pazzeschi cioè io ho tantissime scarpe vabbè lo sapete ma giuro che non avevo assolutamente degli stivali così ma mi sono sempre piaciuti non mi sono mai tardata ad acquistarli ma veramente questo modello qua l'ho sempre 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 bramato adesso il colore sinceramente non pensavo che appunto ha un colore del genere però devo dire che mi piace il modello lo bramavo da tantissimo cioè allora dietro è così con questo spacco e non lo so se sono non lo so se sono di pelle onestamente magari vi vi faccio un appunto ecco se lo sono e sono comodissimi perché le ho le ho già testate le ho già indossate sono fantastici questo è un 38 l'unica cosa ecco che io ho il 37 quindi il 38 mi va bene quindi ecco nel caso decidiate appunto di acquistare qualcosa o comunque di visitare il sito che ve lo consiglio perché vi ho delle scappe stupende prendete e acquistate ecco un numero in più ecco questo è importantissimo perché è davvero cioè io indosso solo ed è soltanto il 37 quindi se mi va del va bene a me il 38 significa appunto che ci vuole un numero in più detto questo sono super confortevoli e poi questi qui in inverno cioè sono una manna anche perché sono dentro sono imbottiti c'è una sorta di di tessuto di velluto non so se si riesce a vedere ma è veramente ecco forse qua si vede veramente fatto benissimo morbidissimi io veramente li avevo indossi mi ero dimenticata di averli da quanto sono comodi ero andata giù perché dovevo ritirare un bacco così cioè il polsino praticamente o mi vede tipo col ciappo molla cioè peggiori condizioni la ciabatta non so che oppure mi trovo con il simale così no ok poi il tacco è un bel tacco altino però è grosso e quindi è comodo per dire che comodo cioè per dirlo io vuol dire che è davvero comodo perché io non sopporto i tacchi ve lo dico ma insomma lo sapete non so quanto possa essere secondo me un 11 un 12 e la pianta è così affilata ma non quelle punte super la gamba è perfetta cioè vi dico che mi sta perfetto cioè quindi non è stretto non è largo è fantastico anche appunto sul punto coscia che appunto è un po' più tornito rispetto al polpaccio alla caviglia non mi stringe è bellissimo poi certo cioè come vi dicevo sono alto 1,67 se siete alto 1,70 e più essendo una gamba così lunga cioè perfetto vi arriverà appunto sopra il ginocchio ma arriva sopra il ginocchio e oltre perché vabbè però sta bene cioè sta molto 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 bene e si può smorzare con vestitini pantaloncini abiti maglione e non so sono rimasta veramente subalordita e eccoli qua ve li rifaccio vedere e c'è ecco la cerniera qua di lato ecco qua vi faccio vedere il tessuto devo pensarci prima eccolo qua vedete se la cerniera e che dire sono felicissima di aver scoperto questa azienda UP2step davvero felicissima come vi dicevo ho tantissime scarpe ero andata a vedere delle robe veramente avrei preso tutto e e spero appunto di esservi stata utile nell'avervela fatta scoprire anche a voi ma so che appunto amate tutte le scarpe cioè chi è che non ama le scarpe no ecco quindi spero appunto di avervi accoglietato ecco la giornata con questa novità comunque comunque nulla io spero che questo video mega haul di nuovi arrivi vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia questa giornata e vi abbia anche magari non so strappato un sorriso e nulla vi mando un bacio fatemi sapere appunto se c'è qualche capo che vi ha accoglietto di più e e nulla ci vediamo alla prossima ciao tesori